Sonorità eterie, mediterranee e senza tempo, in una performance piena di sorprese, questo è stato improvviso. All'Arena Eden, Francesco Giustini, alla tromba e Santiago Fernandez al piano per il primo appuntamento in musica dell'Arezzo Smart Festival. È un progetto che è nato pochi mesi fa e che oggi presentiamo per la prima volta al pubblico. Durante il concerto ci sarà anche la proiezione di alcune foto di Gianni Vasca che noi sonorizzeremo, musicheremo dal vivo, anche perché poi il progetto in realtà è nato un po' dietro queste foto, quindi ci sembrava giusto anche partire da questo. Grande sostenitore del jazz e della musica in generale ad Arezzo. Verranno proiettate questa collezione di foto molto belle che Gianni ha raccolto nell'arco di quasi 50 anni ormai, che dipingono Arezzo, ma non solo, l'Italia, l'Europa. Sarà un viaggio in quelli che sono stati dei decenni importanti per questo paese, questa città e il mondo, insomma tutto. E noi musicheremo questa proiezione di foto e quindi accompagneremo, daremo il nostro contributo per far sì che questa foto abbia un'anima.